Qui abbiamo un giubbotto della linea Maxwell, ma prima di parlare di questo giubbotto voglio parlare della mia tabella taglie espessa in centimetri. Piliate un vostro giubbotto, chiudetelo come ho fatto io in questo momento, mettetelo sul tavolo e andate a misurare quant'è da lato a lato. In questo caso io ho un giubbotto che è 80 centimetri, che per due abbiamo una circonferenza di 160 centimetri. E fate riferimento alla mia tabella taglie che vedete sulla scheda prodotto e qui sulla mia destra. Ora vi voglio parlare di questo giubbotto 100 grammi della linea Maxwell. Qui sul maricchino l'abbiamo già montato per dare un po' un'idea. È un giubbotto che ha la caratteristica di avere una cerniera intera con la chiusura al collo, che io chiamo queste cerniere col collo a camino. Il cappuccio, che anche in questo caso abbiamo una regolazione del cappuccio. Scusate. E due tasche, in questo caso sulla parte esterna, tasche che hanno poi la velatura della cerniera. Quindi praticamente le tasche, quanto sono chiuse, come in questo caso, sembra che non ci sia il discorso della tasca. Sono tasche molto comode, molto profonde. Guardate fino a che livello io arrivo con questa lunghezza di tasca. Un'altra caratteristica di questo giubbotto 100 grammi della dita Maxwell sono il discorso dell'elastico per quello che riguarda il polso delle maniche e lo stesso elastico che viene fatto sul fondo del giubbotto. Considerate che questo manichino ha un'altezza di 1,85 m, quindi è regolato un pochettino su quello che può essere l'altezza. Vi faccio vedere un pochettino la parte interna qui sul tavolo di questo giubbotto, che ha dei contrasti su un discorso di un grigio chiaro. Quindi le rifiniture del giubbotto che potete vedere all'interno hanno questa regolazione di questo grigio chiaro. Due tasche, anche in questo caso, interne molto profonde, sia nella mia parte sinistra che nella mia parte destra. Ora, una cosa che purtroppo dal video e dalle foto non possiamo trasmettere. Questa è una 6XL, 160 cm, guardate con che facilità e morbidezza io riesco ad avere a chiudere questo giubbotto. È veramente un capo molto interessante e molto leggero della dita Maxwell. Taglio e porto, uomo rimini, Maxwell siamo sempre uno taglio avanti.